Oggi ho il grandissimo piacere di incontrare, anche se non proprio fisicamente per darci una bella stretta di mano, come mi farebbe molto piacere, Massimo Bloise, che è un laureato in scienze delle attività motorie e sportive, massofisioterapista, non proprio la parola più semplice, kinesiologo, cosa che mi interessa molto scoprire un po' più da vicino, osteopata e mental coach anche. Quindi benvenuto Massimo, io ho creato Longibility qualche anno fa, ho un seguito di circa 2.500-3.000 persone che si interessano a questo tema, di come rimanere sani e possibilmente felici nella seconda metà della vita, quindi conduco queste interviste ad esperti che mi diano un contributo per cercare di far rimanere le persone che entrano nella seconda metà della vita, quindi diciamo dopo i 60 anni, e il più felici possibili e per essere felici devi essere sano e devi essere anche un po' saggio. Benvenuto Massimo, benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. Ecco, allora, mi è molto interessato questa cosa della kinesiologia, vorrei chiederti un po' meglio che cos'è, perché ci sei entrato in quel mondo, se per caso oppure stavi seguendo una certa pista, e come funziona questa kinesiologia, come potrebbe essere interessante per chi ci segue, per chi si ascolta conoscere meglio la kinesiologia. Vai Massimo. Allora, innanzitutto bisogna fare una premessa, perché kinesiologia è il termine che si usa a kinesiologi in inglese, quindi è il movimento. In questo caso non parliamo del movimento del corpo, io sono anche un laureato in scienze motori, e quindi ho studiato il movimento del corpo, quindi la biomeccanica, la parte anche articolare, quindi nel movimento del corpo umano. Invece la kinesiologia applicata, apply physiology, apply kinesiology, invece lavora su un altro aspetto. Diciamo che si tratta di test muscolari kinesiologici che vengono effettuati sulla persona attraverso un test che prima veniva chiamato test di forza inizialmente, adesso si è saputo che non è così. È un test appropriato muscolare che serve per individuare diverse problematiche che può avere la persona. Tutto questo è nato intorno agli anni Sessanta, quindi non è molto vecchio come può essere la medicina tradizionale cinese, che si parla di millenni, ma pur essendo recente si approccia comunque alla medicina tradizionale cinese, perché nasce da un medico chiropratico, George Goodhart, che intorno agli anni Sessanta, precisamente nel 1964 è nata questa cosa qua. George Goodhart. Goodhart, George Goodhart. Lo scrivo. Sì, 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 lui praticamente aveva, lui trattava le persone come chiropratico e si accorgeva che nonostante i suoi trattamenti avessero beneficio nell'immediato, poi a lungo termine le persone ritornavano indietro con lo stesso identico problema. E quindi ha iniziato ad analizzare, proprio attraverso dei test muscolari, che all'inizio erano dei test muscolari di forza che derivavano da dei test dei fratelli Kendall che facevano test puramente di forza. Quindi prendevano, isolavano il muscolo, lo testavano e vedevano se un muscolo era più forte o più debole da una metà del corpo o l'altra metà del corpo. Goodhart ha preso un po', come dire, spunto da questi test che facevano i fratelli Kendall e ha iniziato a testare questi muscoli e si accorgeva che c'era una differenza effettivamente tra un muscolo e un altro muscolo. Ma poi da qui ha iniziato a capire che c'era una correlazione con altre problematiche legate alla persona. Quindi magari un muscolo che era il tensore della fascia lata, che è un muscolo che è sull'esterno della gamba, ecco perché è kinesiologia, perché in qualsiasi caso si fa anche il movimento, quindi il movimento del test, si vedeva che un muscolo, il tensore della fascia lata, che era abbinato all'intestino, le persone avevano un disagio comunque in quel specifico organo. Allora da lì ha iniziato ad approfondire sempre di più questi studi, anche a fronte di altri studi di suoi colleghi, quindi altri, come dire, chiropratici, il dottor Bennett, il Chapman, anche il dottor Chapman, tutti avevano studiato dei riflessi neuroinfatici, neurovascolari, che se toccati andavano, o stimolati, andavano comunque a sistemare alcune problematiche del corpo della persona. Questo Goodhart ha messo insieme un po' tutti questi aspetti, tutti questi studi, quindi dal test muscolare dei fratelli Kendall, ai riflessi di Chapman, ai riflessi del dottor Bennett, ai punti di agupuntura, lui ha iniziato pian piano ad associare tutte queste metodiche e da qui ha iniziato a scoprire la kinesiologia, perché ha iniziato a trovare la correlazione tra ogni muscolo, ogni organo e ogni meridiano. Quindi ha creato il triangolo della salute tra muscolo, organo e meridiano. Quindi ha scoperto che se un muscolo era in sofferenza, anche un meridiano di agupuntura lo era e allo stesso tempo anche un organo era in sofferenza. Quindi è riuscito in qualche modo a dare una spiegazione del fatto che la persona comunque è vista nella sua interezza. Cioè non è mai vista solo come un muscolo, un organo, un osso, non è solo quello. Cioè si è visto che c'è ben altro intorno alla persona, ci sono delle emozioni, ci sono gli alimenti, ci sono tanti altri fattori che comunque vanno ad agire sul benessere e la salute della persona. Adesso Massimo, magari io proprio da incompetente, ti faccio delle domande completamente fuori luogo, ma io ricordo di aver fatto qualche corso dove il test chinesiologico era tipo quello di alzare il braccio e gli dicevano dimmi che ti chiami Enzo e dicevo Enzo e allora il braccio teneva. Dimmi che ti chiami Giovanni e il braccio sembrava scendesse, no? Ecco, questo era per provare se tu credevi fortemente in qualche cosa, ad esempio tu vorrai che ne so davvero sposare questa donna e se dicevi sì e però il braccio non te stava bene vuol dire che una parte di te diceva di no. Parliamo della stessa cosa è la stessa chinesiologica. Sì, allora mettiamola così, quando si incontra, si fa un primo approccio con un chinesiologo di solito non lo si dimentica perché si inizia a scoprire che il corpo parla in qualche modo e quindi ci sta trasmettendo qualcosa. Quello che ti hanno fatto Enzo è molto scenografico, diciamo che fa parte della scenografia per far vedere a chi non sa ancora nulla della chinesiologia che il nostro corpo effettivamente interagisce con noi e ci parla e ci comunica qualcosa. In chinesiologia si usa quel test che hai fatto tu che ad esempio riguarda il deltoide medio che in quel caso è un muscolo specifico, no? Quindi il muscolo deltoide medio è un muscolo specifico ma in realtà nella chinesiologia applicata quel determinato muscolo stiamo testando un meridiano che in questo caso è il meridiano del polmone. Capisci? Organo, polmone. Quindi noi stiamo valutando lo stato energetico di quel meridiano, di quell'organo. Quindi se hai in disfunzione il chinesiologo sta vedendo che c'è una disfunzione in quella parte lì il che non significa che per forza si abbia una problematica urgente o di un certo tipo. Ci sta soltanto dicendo che a livello energetico quella persona su quel meridiano, su quell'organo specifico è in disfunzione. E poi lo si riequilibrerà. Come lo si riequilibria? Attraverso dei punti come vi dicevo prima del dottor Bennett e del dottor Chapman che sono dei punti dei riflessi neurolinfatici e neurovascolari che se stimolati o attivati vanno a riequilibrare quel determinato muscolo quel determinato meridiano. Poi la chinesiologia è molto più complessa oggi di quella che ne abbiamo parlato prima. cioè la chinesiologia ad esempio quando mi capita di trattare nel mio studio con la chinesiologia vengono effettuati veramente tantissimi test sulla persona ma senza stancarla non si usa più un muscolo come hanno fatto con te perché se no non puoi stare in quasi 50 minuti un'ora di trattamento con un muscolo a furia di spingere per avere delle risposte. Lo facevano anche così col dito, no? Quello è il test dello ring ok? Quello è il test dello ring che è stato scoperto da, diciamo introdotto da Roy Martina come test più pratico e veloce da poter fare o in autoterapia oppure direttamente un operatore sulla mano dell'altro ma anche quello non lo possiamo definire come un vero test kinesiologico. Il trattamento kinesiologico è molto più più bello molto più complesso ma allo stesso tempo è più elegante ok? Allora La persona non si accorge ai momenti che la stai testando questo è il discorso. Allora adesso dobbiamo fare un po' di ordine questo che ho fatto io in alcuni corsi dove bisognava scegliere se era preferibile mangiare quell'alimento o quell'altro ok e tu testavi il braccio o con questo qui ha un suo senso ma molto più di show è una valutazione che stai facendo è una valutazione che stai facendo Enzo comunque però il kinesiologo diciamo che ti serve molto di più del fatto di dirti guarda che quell'alimento per te non va bene bisogna capire perché quell'alimento non ti va bene e cercare di riequilibrarlo renditi forte in modo tale da essere equilibrato per gestire meglio quell'alimento però può essere comunque interessante che io di fronte a delle scelte della vita che razionalmente me le faccio piacere o non me le faccio piacere ne ho paura o non ne ho paura ma il corpo saggio risponde in un certo modo e io testando con la kinesiologia in un modo o nell'altro il corpo ho delle risposte che sono profonde più subconsce di quello che io posso riflettere con la mente razionale certo la cosa ancora più interessante a mio avviso che già questo è molto interessante ma ancora più interessante è capire quali sono gli autosabotaggi che hanno creato quel rallentamento e allora se tu vai a eliminare o meno più riequilibrare eliminare no ma riequilibrare quegli autosabotaggi il tuo corpo e la tua vita cambierà da lì in avanti anzi in realtà cambierà da quando è capitata quella sabotaggio specifica tu stai andando a modificare un focherello sempre acceso che sta alimentando un qualcosa che ti stai portando avanti nella vita ma se noi lo andiamo a spegnere quel focherello lì che è successo tanto tempo fa tutto quello che è successo da lì in avanti cambierà e cambierà anche tutto quello che da oggi in avanti tu farai e applicherai è questo che fa la differenza quindi supponiamo che abbiamo la persona come me 63 anni si sveglia per un po' di mattina mal di schiena mal di schiena mal di schiena viene da te e tu parti dal presupposto che dietro questo mal di schiena ci sia qualche cosa alla radice a meno che uno non abbia spostato un trauma però se è un mal di schiena che viene fuori così tu parti dal presupposto che ci sia qualcosa alla radice che andrebbe scovato e quindi come introduci la kinesologia per capire cos'è può essere quella roba alla radice beh inizialmente cerco di fare un'anamnesi con la persona per cercare di capire effettivamente l'origine di questo problema come dicevi giustamente te se la persona è caduta da una scala si è fatto male quindi c'è un trauma diretto e bisogna in qualche modo aiutarlo per quel trauma diretto poi se vogliamo andiamo a capire perché questo trauma è arrivato però lì apriamo degli altri campi ma partiamo dal fatto che non ci sia un trauma diretto io faccio effettuo ad esempio per quanto riguarda stavi dicendo di come pratico io questo nel mio studio effettuo dei test per valutare se questa questa problematica ha una problematica che riguarda la parte biochimica la parte strutturale quindi ossa muscoli tendine e legamenti oppure la parte emozionale e perché no la parte energetica quindi dovete immaginare devi immaginare Enzo che noi siamo all'interno tu immagina proprio la persona all'interno di un triangolo equilatero quindi c'è un lato che è la parte biochimica quindi l'alimentazione tutto ciò che in realtà va a incidere sul nostro corpo che poi non è solo l'alimentazione perché anche le emozioni agiscono sulla biochimica però stiamo per ora soltanto sul lato della biochimica c'è un altro lato che è quello strutturale che è quello del muscolo e ossa tendine e legamenti e poi c'è l'altro lato sotto che va a chiudere che può essere quello emozionale puoi immaginare che siccome è equilatero se uno di questi lati dovesse cedere per qualche motivo che sia lo strutturale che sia biochimico che sia emozionale anche gli altri due lati ovviamente andranno a cadere e quindi la persona andrà sempre di più in uno stato di malattia il compito del kinesiologo è cercare di mantenere in equilibrio questi tre lati nella sua interezza quindi se vado a trattare una persona per un mal di schiena cercherò di valutare questi tre aspetti e poi dirigermi in quella direzione cioè se la problematica è emozionale cercheremo di andare a testare quali sono le emozioni o gli eventi che hanno scatenato quell'aspetto lì e quindi l'anamnesi è molto ampia molto profonda perché uno magari viene col mal di schiena però è perché qualche settimana prima ha visticciato col socio o con la moglie o col marito ne prendi atto ne prendi atto non stai un'ora a fare anamnesi ti servono alcuni dati ormai con l'esperienza arrivi subito a capire se si tratta di una cosa oppure un'altra se è un trama te lo dicono direttamente se non è un trama tu chiedi solo due o tre cose due o tre aspetti e poi vai direttamente sul lettino e vai a fare i test che ti servono e fai già il trattamento quindi vai già ad attuare i trattamenti ecco ad esempio mal di schiena ok che viene perché stress psicologico sovraccarico lavoro problemi familiari e così via bene tu riesci a individuare che quindi questo mal di schiena che è fisiologico però ha una origine emozionale o qualcosa del genere e intervieni poi sulla biologia o intervieni sulla psiche in quel caso cioè fai il mental coach in quel caso o tutte e due utilizzi tutti gli strumenti che hai a tua disposizione tu pensa Enzo nel momento in cui io tocco te le tue informazioni del tuo sistema entrano in comunicazione con il mio sistema e le mie informazioni ovviamente entreranno a disposizione per il tuo sistema quindi in base al mio background che avrò tu andrai a cercare qual è la soluzione migliore per te ovviamente io testerò su un elenco di possibili trattamenti che potrei farti quella che è più idonea è quella che mi darai un cambio di indicatore cosa significa cambio di indicatore? è quello che tu avvertivi mi chiamo Enzo mi chiamo Giuseppina dove ti dava il cambio quello è un cambio di indicatore per noi kinesiologi e quindi ci sta dicendo che quella è la direzione dove dobbiamo andare ti faccio un esempio se tratto che il problema è emozionale cercherò di capire quando è successo e per far questo cosa faccio? andrò in recessione d'età ma per fare questo chiederò al tuo sistema permesso di recessione d'età mi permetti di andare in recessione d'età il tuo sistema mi dirà sì farà sì nel momento in cui ha fatto sì io dico va bene ok vai vado per anni 63 anni ok 63, 60 60, 55 55, 50 mi dai un cambio di indicatore a 50 anni di età e io lì che mi fermo poi ti posso anche chiedere ti ricordi qualcosa che è successo quando avevi 50 anni di età? e tu mi dici no al momento non lo ricordo ma ci sono persone che dopo un po' iniziano a dire ma sai che adesso mi è venuto in mente che cos'era successo quando avevo 50 anni ero caduto con lo slittino capisci? quello è un evento traumatico che ovviamente ti sei portato dietro e ad oggi hai risvagliato tante emozioni e tanti dolori capito? sì sì so che è un po' complessa la medicina kinesiologica e lo capisco come primo approccio può essere complesso infatti sto proprio cercando di chi ci ascolta se mia mamma ci ascoltasse che ha 85 anni probabilmente borboterebbe ma cosa l'è questa kinesiologia e prima a me ha cambiato la vita Enzo la kinesiologia cioè io sono partito 20 anni fa a studiare quindi ho studiato tutta la parte di fisioterapia massofisioterapia l'ostopatia ho seguito tantissimi corsi quando ho incontrato la kinesiologia mi ha veramente cambiato perché perché mi ha permesso di poter trattare una persona senza dover decidere io cosa devo fare per la persona mentre io ero abituato a dover decidere sempre io cosa poter fare di utile per la persona qui invece era il corpo che mi dice cosa devo fare giusto per te se ti serve un bicchier d'acqua ti servono dei diapason terapia se ti serve la campana tibetana se ti serve il cimbalo tibetano se ti servono altri strumenti per guarire che io ti posso applicare perché li ho studiati ma che tu richiedi per essere trattato quindi io arrivo da te ho 70 anni sono 15 kg in sovrappeso un po' acciaccato qua e là tu mi fai lo stesso trattamento con la kinesiologia cerchi di capire questo stato un po' degenerativo che non si capisce bene perché non è una cosa specifica come mai nasce e c'è la possibilità di riportare in salute quel 70enne che si è un po' lasciato andare si è un po' perso negli ultimi 5-10 anni può essere ti faccio un esempio guarda una cosa che è stata emblematica da una ragazza che è ancora una fotomodella ed era venuta da me per un problema di obesità se vogliamo rimanere in quel campo lì e niente bellissima ragazza lo stesso anche se era in sovrappeso però lei voleva trattare questa cosa vado in trattamento vado a effettuare dei test vado in recessione d'età cioè capire quando quel sistema emozionale che ho testato all'inizio che era la problematica iniziale causativa di quella problematica lì testo mi fa andare in recessione d'età troviamo un anno come nel tuo caso avevamo trovato 50 anni ad esempio ho trovato un anno specifico le dico ti viene in mente qualcosa che è successo in quell'anno lì la persona questa ragazza mi ha detto no io vado avanti a fare tutti i miei test vado avanti col mio protocollo con le mie cose e a un certo punto le vedo che le scende una lacrima sul viso e allora ovviamente mi fermo e lì usi la metodica del mental coach quando utilizzare le cose giuste nel momento giusto in base al tuo background e lì ho chiesto tutto bene c'è qualcosa che posso fare per aiutarti e lei mi ha iniziato a dire Max mi è venuto in mente cosa è successo lei praticamente in quell'anno lì aveva ricevuto delle molestie quindi cosa è successo nel suo corpo il suo corpo ha detto ma sai che c'è io adesso a questa ragazza la faccio diventare brutta così lei le molestie non le riceverà più capisci come è andato il suo inconscio per proteggerla ha creato questo sistema e ovviamente come kinesiologo cosa fai non è che cerchi di cerchi di riequilibrare quell'aspetto fare in modo che questa situazione qua torni in equilibrio e sia più chiara per lei che quindi non ha senso che questo autosabotaggio la continui a portare avanti nel tempo capisci come è creato ed è strutturato l'obesità ad oggi quella ragazza se la vedi è una fantastica fotomodella ancora come era prima lo era anche se era un po' in sovrappeso ma adesso lo è è ritornato come era prima splendidamente quindi posso riassumere brevemente che la kinesiologia è l'abilità o diciamo il linguaggio è interpretare il linguaggio del corpo per andare a capire che cosa ha capito il corpo come ha interpretato il corpo certi avvenimenti della sua vita e quindi ha reagito indipendentemente dalla mente cioè è una reazione del corpo quindi chiedo al corpo cosa gli è successo e cerco di mettere a posto il resto sì cioè stai facendo praticamente un dialogo col suo inconscio ma attenzione non lo stai facendo forzatamente senza che la persona voglia cioè perché il sistema se non ti fa cedere non ti fa cedere cioè non è che io vado oltre a quello che il sistema mi può dare in questo momento in questo momento mi puoi aprire un cancello se lo vogliamo chiamare così mi apri quel cancello lì di quella parte della memoria ma magari non me ne apri un altro in questo momento perché ti farebbe troppo male quindi magari la persona la rivedi una seconda volta prima Massimo da qualche parte hai detto anche gli incidenti ma lasciamo perdere per un attimo questa cosa se no cosa volevi alludere che anche gli incidenti in qualche modo non sono casuali eh sì sì qui ci addentriamo in un aspetto molto molto profondo però sì 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 può essere così cioè un trauma o una caduta anche un inciampare in una buca che può sembrare che c'era la buca sono inciampato quindi è questo che ci viene da pensare in realtà non è così perché il nostro cervello i nostri occhi quella buca lì l'hanno già vista capisci è il nostro corpo che in realtà in qualche modo ci sta trasmettendo un segnale e ci sta dicendo un attimo solo fermati c'è qualcosa che non sta funzionando nella tua vita capito poi sta a noi riuscire a interpretare quei segnali a volte riusciamo a volte è necessario che qualcuno ci aiuti a capirli a decifrarli quello sì con la kinesiologia fai anche questo ho intervistato molte persone che sono nell'ambito della salute del benessere e spesso usciva fuori che i problemi di salute che siano poi dovuti incidenti o malattie o vecchiaia e così via che comunque sono una sorta di male dell'anima che si manifesta nel corpo da quello che dici tu mi sembra di ritrovarlo anche 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 nel tuo caso cioè dici c'è un male più profondo che si manifesta o attraverso un incidente o attraverso una frattura o attraverso qualche altra cosa ma e quindi in qualche modo andando indietro 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 vai sempre a finire a parlare con l'anima della persona sì se vogliamo arrivare lì mi piace di più sull'inconscio però se vogliamo arriviamo fino all'anima allora tieni conto che prima di arrivare alla struttura il corpo passa attraverso la mente e poi attraverso lo spirito quindi il primo livello è lo spirito poi c'è la mente poi c'è il corpo quindi quando ci arriva qualcosa sulla struttura sul corpo siamo già arrivati alla fine cioè è lì il segnale è quello però dobbiamo capire che c'è una parte mentale che non ha funzionato bene prima è una parte spirituale ancora prima che in realtà non siamo riusciti ancora ad agganciarci quindi noi siamo molto terreni spesso capito non ci non ci spostiamo molto dalla parte terrena anche qui la chinesiologia applicata è un po' complessa come metodica come struttura ma è perché ci permette di poter fare un salto ulteriore quindi se è un sintomo se il nostro corpo ci parla con il test chinesiologico ci sta dando delle informazioni ma il nostro corpo ci dà sempre delle informazioni siamo noi che abbiamo disimparato ad ascoltarle quindi se ci viene un problema al polpaccio o un crampo al polpaccio c'è un motivo che ci sta legando su quello magari qualcosa legato al passato che ci stiamo ancora trascinando dietro non ci permette di andare avanti ci viene un dolore al ginocchio se è anteriore o posteriore se è anteriore potrebbe essere un problema che è qualcosa che riguarda il nostro futuro e che in questo momento siamo ancorati ancora qui e che non riusciamo a superare per andare avanti capisci? questo può essere il linguaggio l'interpretazione poi a livello kinesiologico ci interessa tanto decifrare questa cosa? no personalmente negli anni non mi interessa approfondire questo aspetto qua mi interessa riequilibrare questo aspetto e molto spesso ti accorgi che la persona trova le soluzioni in passato e se ti faccio questa confidenza e ti parlo di circa 10 o 15 anni fa quando riuscivo a fare un trattamento kinesiologico alla persona poi non la vedevo vedevo che stava bene la incontravo per strada stava bene era migliorato quell'aspetto lì era stato superato io dicevo caspita guarda come sta bene questa persona ero contento però un po' ci rimanevo male perché la persona non veniva a collegare quell'aspetto a me capito oggi se ti dovessi dire questo non mi interessa perché io so quello che sono riuscito a fare per la persona ho fatto tutto in seduta cerchi di fare tutto quello che è possibile per la persona in quel momento lì poi da lì in avanti la persona inizierà il suo cambiamento quando incontri un kinesiologo il cambiamento parte subito parte poi magari gli effetti e la guarigione possono essere lenti anche mesi sì perché c'è anche un'elaborazione il corpo non può fare pam pam il corpo ha bisogno di metabolizzare avvicinarsi a quello ma è come la natura è come curarsi con un fitoterapico curarsi con un omeopatico se mi curo con un omeopatico con un simile io devo pensare che questo cambiamento arriverà gradualmente ma senza stravolgermi un farmaco mi stravolge ho mal di testa prendo il farmaco mi passa adesso perché? perché sto spegnendo i nocicettori interni del corpo e mi fa star bene subito ma in realtà è un falso quella cosa lì stiamo inibendo il nostro corpo non lo stiamo aiutando ok? e qui si potrebbe fare una sorta di battuta dicendo che tutti questi sistemi molto rispettosi dell'essere umano nella sua interezza quindi spirito mente emozioni corpo e così via che hanno questo approccio come la kinesiologia probabilmente fanno danno più dubbi perché paghi subito paghi subito il medico o il kinesiologo però l'effetto ci devi mettere anche del tuo ci devi un po' anche devi anche voler capire cosa sta avvenendo e lo vedi magari dopo qualche settimana qualche mese l'effetto non necessariamente a volte li vedi anche subito immediati cioè se parli di un dolore ad esempio il dolore lo puoi spegnere anche tu però lo spegni non dandogli delle sostanze lavorando su dei punti di autopuntura dei punti che sono dei punti mu che si possono utilizzare per poter spegnere quel dolore lì perché? perché il dolore non è nient'altro che un cortocircuito energetico fondamentalmente quindi tu stai ripristinando l'energia in quella persona poi se noi vogliamo fare un approfondimento su perché mi è arrivato quel dolore lì e quel blocco energetico lo possiamo fare e lo possiamo riequilibrare ma non è detto che la persona ci doveva mettere degli anni o ci doveva per forza mettere del suo no però tu pretendi non è che pretendi comunque tu gli dai il consiglio di dire guarda che la tua vita potrebbe avere questa cosa qua poi sta a te scegliere sta a te scegliere tu hai avuto un'opportunità incontrando un kinesiologo che ti ha detto alcune cose sta a te puoi capire se in realtà tu vuoi seguire quella strada o non la vuoi seguire e poi come si dire guarda sai Enzo io per il raffreddore uso molta vitamina C e tu mi dici no sai io per il raffreddore uso l'aspirina ok io mi trovo bene con la vitamina C mi fa bene l'articolazione mi toglie il raffreddore mi aiuta per l'influenza io mi trovo bene con quello sta a te dire ma sai che c'è invece di prendermi l'aspirina che magari mi agisce anche sul fegato e mi intossica un pochettino quasi quasi quando ho raffreddore tento anche di prendere la vitamina C è una tua scelta non sei costretto a dover fare per forza un lavoro interiore per ottenere il risultato il risultato arriva se quando hai finito il trattamento kinesiologico se abbiamo come dire individuato la causa scatenante è finita il focherello è spento se tu spegni il focherello non c'è più niente che alimenta quella condizione lì e la situazione è sparita è cambiata meraviglioso ma ecco molte persone dopo i 60 70 anni hanno una serie di sai che le statistiche dicono che in Europa si vive mediamente fino a 84 anni l'aspettativa di vita media però l'aspettativa di vita in salute è solo 64 anni quindi si lasciano sul piatto ben 20 anni dai 64 agli 84 con una due tre patologie quindi spesso problemi appunto del sonno dell'eterio problemi alla schiena articolazioni cadute fratture esaurimenti e così via c'è qualcosa che viene escluso nel trattamento della kinesiologia o si può avere sia la persona giù di morale depressa sia quello che non dorme che poi le cose si catenano spesso uno può essere fiducioso che con la kinesiologia può capirsi meglio beh quello si si assolutamente ripeto non c'è noi abbiamo dato delle etichette oggi giorno noi abbiamo dato delle etichette no? noi abbiamo dato quei numeri lì 64 anni 80 anni noi abbiamo dato quei numeri lì ma non sono reali capisci? sono su una statistica ma sta a noi cambiarli quindi anche nel nel libro di Bruce Lipton la biologia delle credenze si spiega questa cosa qua quindi la parte biologica può cambiarla puoi cambiare tranquillamente puoi tu modificarla sta a te seguirla cioè tu puoi seguire una parte genetica che è quella che hai impostato oppure la puoi cambiare abbiamo visto che possiamo modificare il nostro stato d'animo in giro di pochissimi secondi sai quel test che avevano fatto del tampone orofaringeo no? avevano preso avevano prelevato praticamente avevano fatto proprio un esperimento hanno preso una persona e gli hanno fatto un prelevamento della saliva ok? dopo che l'avevano fatto divertire tantissimo cioè proprio fare proprio piangere dalle risate e star benissimo per dieci minuti di seguito hanno analizzato questo tampone e hanno visto che la biochimica molecolare di questa saliva era completamente alcalina bella ok? alla stessa persona a distanza di mezz'ora hanno fatto rivivere invece dei dispiacevoli pensieri no? qualcosa di veramente brutto deleterio per questa persona e cosa è accaduto che poi quando hanno rifatto il tampone orale hanno visto le molecole di questa saliva che era completamente nera cambiata quindi era modificata completamente e questo nell'arco di mezz'ora quindi noi siamo in grado di cambiare la nostra biochimica nell'arco di pochissimi secondi sta a noi quindi il fatto dell'invecchiamento è legato a questo aspetto se una persona continua a stare in uno stato di distress cioè le persone invecchiano molto prima perché perché si va in un'ossidazione cellulare troppo precoce e ovviamente la pelle tutti i tessuti iniziano a soffrire oltre agli organi e da lì che poi si può innescare uno stato di malattia perché poi le ghiandole surrenali continuano a produrre cortisolo noradrenalina aldosterone a bomba quindi l'apparato ipofisario inizia a sbiellarsi quindi tutta la parte ormonale e l'asse ipotalamico ipofisario si sbiella completamente la parte organica urogenitale inizia a non lavorare bene capite che la disfunzione è dietro la portata di mano di tutti ma ce la siamo creata noi noi ce la siamo creata questa disfunzione capisci? perché stiamo vivendo in una situazione completamente sballata d'altronde ciò di cui mi sono reso conto è che molte persone arrivano fino a 5-60 anni figli famiglia la casa il mutuo l'automobile tanti impegni e quindi non hai neppure il tempo per riflettere ti alzi parti torni a casa la sera riparti il giorno dopo dopo i 60-65 anni magari con l'età del pensionamento si smettono certe cose obbligate dalla vita per guadagnare perché vivo chi sono cosa sono qui a fare e se non trovi un come dicono i giapponesi un ikigai un qualche cosa che ti appassiona che ti fa alzare dal mattino dal letto ecco che funge un po' come un un veleno questa questo questo non sapere no? sono inutile quando ci si dice non servo più sono inutili la famosa frase ormai alla mia età è ormai alla mia età ci sono persone a 60 anni ormai alla mia età ormai alla mia età credo che faccia questo effetto che se vai poi a misurare la saliva sia una saliva acida penso anch'io che sia così e quindi sì io mi impegno per cercare di presentare un modello longevity per far capire a cosa serve l'essere umano e perché anche a 80 90 o 100 anni quando riconosciamo perché siamo qui e a cosa serviamo siamo motivati quando invece cadiamo nella trappola che noi siamo qui solo per consumare per comprare l'automobile per fare tre settimane di vacanza per per andare al supermercato prima o poi questa cosa ti annoia terribilmente e quindi ti lascia andare quindi invito tutti a riflettere su questa cosa che non siamo qui soltanto per consumare e sporcare ma siamo qui per qualcosa di più grande e scoprirlo ci dà una grandissima motivazione e trasforma la nostra saliva in una saliva alcalinizzata ottimo quindi mi sembra che abbiamo coperto il succo della della situazione mi viene da dire siamo fatti di spirito di mente di emozioni e di corpo la chinesiologia piano piano indaga e va su tutti questi livelli per cercare di sradicare alla radice il problema quindi direi per chi ci ascolta se qualcuno ne ha già provate tante perché poi spesso è così no? che si va dal chinesiologo magari dopo che ne è passati tre, quattro, cinque gli altri tipi succede prendiamoci questa opportunità della chinesiologia dove sei tu Massimo? io sono in Piemonte in provincia di Alessandria poi spesso mi sposto magari a Lecco su uno studio che c'è lì di una mia collega e quindi ci troviamo lì e facciamo dei corsi anche ogni tanto sulla chinesiologia cioè insegniamo le persone come autotrattarsi e poi anche eventualmente fare un uso anche quotidiano nella famiglia perché nel Touch for Health che John T aveva inventato aveva creato quattro moduli e aveva cercato di creare un metodo di chinesiologia che potesse essere pratico e comodo da poter fare anche la casalinga di casa e così è stato e quindi noi io insieme ai miei colleghi e ai miei colleghi nel nostro sistema se uno vuole andare sul nostro sito formazione di chinesiologia può trovare questi corsi e possono essere corsi aperti a tutti inizialmente perché si insegna proprio le basi della chinesiologia come strutturata e come autotrattarsi e allo stesso tempo come trattare i propri cari e se poi uno vuole far diventare una professione vuole diventare un operatore olistico quindi lavorare nello specifico con le terapie bionaturali quindi con la riflessologia plantare riflessologia facciale il massaggio e altre cose anche questo allora fa un lavoro un po' più approfondito ma se vuole imparare solo la chinesiologia quella la insegniamo la insegno anche in vari corsi e questi corsi bisogna già avere delle competenze in qualche cosa o può venire anche il pensionato 68enne che finora faceva l'elettromeccanico ce l'abbiamo avuto guarda una cosa simile sì 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 l'abbiamo avuto no in realtà ci sono alcuni corsi che sono propedeutici per altri e ci sono dei corsi che invece sono aperti tutti tipo noi abbiamo fatto un kinesiologia e credenze che lavora specifico sulle emozioni l'abbiamo chiamato credenze ma avremmo potuto chiamarla kinesiologia emozionale perché lavora sulle credenze quindi lì andiamo a trattare le emozioni attraverso cinque elementi e cinque elementi della medicina tradizionale cinese quindi insegniamo queste cose tra l'altro un corso che abbiamo fatto anche online precisamente l'ha registrato di più la mia collega Daniela Piazzolla e abbiamo questo corso che è direttamente online e uno se volesse può acquistarlo in qualsiasi momento e iniziare da subito sono oltre sette ore di registrazione quindi sono è un modulo completo ci sarà un manuale che si può scaricare ci sarà l'attestato finale che uno ha finito di fare il corso ci saranno anche delle tabelle con delle emozioni che noi insegneremo ad andare a testare per poter trattare la persona è un corso molto completo quello che facciamo sia dal vivo ma c'è anche online ad esempio quello aperto a tutti molto interessante poi mi darai sì sì volentieri così lo metto in descrizione e chi può essere interessato può essere anche una cosa affascinante da scoprire soprattutto per chi ha un po' di tempo a disposizione di capire meglio la kinesiologia per dare una mano in famiglia o alle persone care ma anche soprattutto capirla più profondamente per usarla meglio su se stessi Massimo a meno che ti venga in mente qualche cosa da aggiungere che ti sembra importante per le targhe delle persone over 60 io credo che abbiamo detto quello che era necessario su questo tema della kinesiologia quindi spero di sì ringrazio moltissimo ho stato entusiasmante scoprire che anche la kinesiologia è un approccio è giusto dire olistico nel senso che sì 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 olistico e oggi c'è sempre più bisogno perché trovo che molti medici vai da uno sa tutto del gomito vai dall'altro sa tutto del ginocchio vai dall'altro sa tutto dell'alluce e magari il problema al gomito viene dall'alluce però se tu vai da quello del gomito non ti dirà mai perché ognuno cerca di difendere la sua categoria quindi consiglio vivamente a tutti quelli che ci ascoltano se hanno male il ginocchio o l'alluce ma di avere un approccio olistico a tutto ciò perché non si sa mai da dove parte potrebbe partire dalla mente potrebbe partire dall'emozione potrebbe partire dallo spirito addirittura e quindi benvengono operatori come Massimo che ci danno una mano a diventare un po' sani perché poi la felicità è correlata anche a quanto mobili si è quanto si possa vivere bene in salute far la propria passeggiata condividere con i propri cari quindi grazie per quello che fai e non è data che ci si veda un tuo corso volentieri grazie moltissimo ti auguro buona giornata un abbraccio forte grazie anche a te Enzo ciao grazie a tutti